Cambia la raccolta differenziata in Valbrenta. Nelle prossime settimane, infatti, gli utenti e tra interessati riceveranno le indicazioni con le nuove modalità. La novità principale è l'introduzione della nuova eco-tessera necessaria per il conferimento nei nuovi contenitori stradali del rifiuto secco e, solo per le utenze domestiche, nei centri di raccolta di Cimon, San Nazario e Valstagna. I nuovi contenitori avranno un'apertura grande circa come un sacchetto della spesa e quindi si raccomanda di non preparare sacchi troppo grandi. Saranno posizionati già nei prossimi giorni e quindi saranno subito visibili, mentre la nuova raccolta vera e propria partirà da metà gennaio, quando per il secco non sarà più attivo il servizio porta a porta. Lo scopo, fa sapere il presidente di EITRA, Flavio Frasson, è quello di aumentare ancora la percentuale di raccolta differenziata, come previsto dalla regione e secondo gli obiettivi imposti dall'Unione Europea, ovvero l'84% entro il 2030. Altro obiettivo è la riduzione del rifiuto secco e, di conseguenza, il contenimento dei costi di raccolta e di smaltimento, con ricadute positive sull'ambiente. Infine, quanto alla nuova eco-tessera, è dotata di codici a barre e microchip e quindi è bene conservarla come fosse un bancomat senza cederla o duplicarla.